Soprattutto nel secondo tempo il Brescia ha attaccato, ha avuto 4-5-6 occasioni clamorose perché questa squadra non riesce ad essere all'altezza anche di avversari come il Brescia che oggi era in difficoltà come il Pescara alla vigilia di questa partita. Le 5-6 occasioni no, 3-4 occasioni clamorose le hanno avute ma dopo il 2-1 dove noi ci siamo aperti ci siamo messi a 4 dietro quindi abbiamo concesso campo e quindi è successo tutto dopo. Perché? Perché la differenza è che adesso sono 4-5 partite della mia gestione è logico che facciamo fatica magari a fare golli davanti e alla prima difficoltà crolliamo. Noi analizziamo anche la partita di stasera, al primo tempo la partita è totale in controllo abbiamo siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto altre situazioni per fare altri gol e è lì che dobbiamo incidere perché se vai e chiudi il primo tempo invece di 1-0 chiudi 2-0 cambia tutto lo scenario della partita. Purtroppo facciamo fatica di davanti e anche se fai una buona partita organizzata e alla prima occasione prendi gol, decari tutto il castelletto che creiamo. Ti chiedo due cose Massimo, la prima se dopo il gol dell'1-0 il rammarico è grande perché io sentivo anche un po' i colleghi in sala stampa si vedeva che il Brescia aveva tanta paura e non riusciva a fare nulla e poi se dopo la partita hai parlato con qualche dirigente? Dopo l'1-0 ero soddisfattissimo di come eravamo partiti, di come stavamo giocando e di quello che stavamo facendo. La dispiacere è prendere i gol in quella maniera perché si poteva evitare perché è stato un gol che si poteva evitare benissimo poi quando prendi gol chiudi 1-1 il primo tempo, rientri la partita è in totale equilibrio concedi un calcio d'angolo dove ci perdiamo l'uomo più importante di questo campionato che è il Caracciolo prendi gol, da lì cambi modulo, cerchi di andare a riprendere la partita è logico che nel momento in cui cambi modulo ti apri a quello che dicevo le settimane scorse come un attimo apri il cancelletto e il cancello dietro diventa un problema e abbiamo subito 3-4 palle poi avevamo la fortuna di avere l'occasione finale con Cocco anche lì diciamo che in questa mia gestione un po' la fortuna anche questo ci manca Che hai incontrato i dirigenti? Ma ripeto, stanno con noi ma ripeto, il problema non è Epifani in questo momento il problema è il Pescara cercare di venire fuori da questa situazione anche se oggi i risultati ci hanno un po' aiutato perché credo che hanno perso tutti quindi il pareggio finale poteva avere una valenza fondamentale però non credo che in questo momento il problema sia Massimo Epifani il problema è il Pescara che dobbiamo cercare di risolvere il prima possibile io ci sto mettendo tutto l'impegno e tutto me stesso cercando di tirare fuori qualcosa di più a questi ragazzi vivere dentro questo spogliatore non è semplice perché i ragazzi sono veramente molto abbattuti la prima cosa che va male è crolliamo come è successo stasera poi abbiamo avuto la forza alla fine negli ultimi 10 minuti di provare a riprenderla siamo stati un po' sfortunati per gli ultimi passaggi il tiro di Baiz è l'occasionissima di Andrea che poteva darci un punto che è questo momento molto importante questa squadra ha perso sicurezza nelle ultime partite lo aveva già fatto anche durante la gestione Zeman come se ne può uscire considerando anche un calendario che non è amico sabato c'è il Palermo poi c'è il Bari tu hai detto il problema non è Epifani il problema è questa squadra che non riesce ad imporsi sul piano del gioco anche al cospetto di avversari che sarebbero alla sua portata come secondo te si può uscire da questa situazione? dando di più cercando di avere più coraggio che in questo momento manca di essere attenti sulle palle quando ci si difende stare attenti alle palle dove non devi prendere gol perché se regali magari qualche situazione agli avversari in questo momento che mentalmente sei un pochettino fragile decale tutto se ne esce lavorando cercando di tenere testa alta anche se anche se veniamo da 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 un momento negativo però che dobbiamo fare dobbiamo lavorare nel calcio si lavora e cercare di di tirarsi fuori il prima possibile ai tifosi cosa ti senti di dire? perché a fine partita questi tifosi che stasera erano a Brescia hanno chiamato la squadra però sono oggettivamente ed obiettivamente sconcertati anche un po' i tifosi ai tifosi li possiamo solo ringraziare noi in questo momento siamo in grosso debito con loro perché i risultati dicono questo sotto l'aspetto dell'impegno ragazzi non gli posso dire niente sotto l'aspetto dei risultati siamo in grosso debito con i tifosi e quindi ci sentiamo in difetto con loro e questo ci deve aiutare a a tirar fuori quel qualcosa in più che in questo momento e questa squadra manca grazie a tutti grazie a tutti